O ammirabile Sant'Agnese, quale grande esultanza provasti, quando alla tenerissima età di tredici anni, condannata da Aspasio ad essere bruciata viva, vedesti le fiamme dividersi intorno a te, lasciarti illesa ed avventarsi invece contro quelli che desideravano la tua morte. Per la grande gioia spirituale con cui ricevesti il colpo estremo, esortando tu stessa il carneficio a conficcarti nel petto la spada che doveva compiere il tuo sacrificio, ottieni a tutti noi la grazia di sostenere con edificante serenità tutte le persecuzioni e le croci con cui il Signore volesse provarci. E di crescere sempre più nell'amore a Dio. Per suggellare con la morte dei giusti una vita di mortificazione. E sacrificio. Amen.